Altana del frerito, oh 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 Ciao broderigno E su ne ho quattro Grazie per i quattro Pronto? Pronto? Non sei ancora A Genova Tu lo sai che grazie a te e i tuoi amici Devo cambiare il numero telefonico ma ti hai fatto perdere più di 100 euro? Ma guarda Quello per me è solo che positivo Non lo sai Non lo sai perché comunque continuate a chiamarmi Io domani non c'ho più questo numero Io a mezzanotte ti chiamerò al telefono Così giusto per testare la situazione Ma a me non me ne frega un cazzo Ma dai ma che male di cazzo Ma cosa fai? Il mio numero è privato ragazzo Va bene dai divertiti con le tue amiche Dai vai da tua madre e spudagli in faccia Non c'è Non è un problema fare una serata con la propria madre Non è che c'è da vergognarsi Ok va bene Ciao È completamente ubriaco Non è un problema fare una serata con le tue amiche Non è un problema fare una serata con le tue amiche